Traendo spunto da Walt Disney, if you can dream it, you can do it. È grande motivo di orgoglio, ma non solo. Significa poter portare a termine un percorso scientifico innovativo e poter contribuire in futuro al progresso scientifico. Dopo la triennale in biotecnologie mediche e farmaceutiche, ho sentito la necessità di approfondire i più recenti approcci biotecnologici applicati alla ricerca biomedica e alla diagnostica, di fatti Medical Biotechnology e Molecular Medicine mi sta offrendo un ampio visuale delle diverse applicazioni biotecnologiche, dalle neuroscienze alla genetica medica, dalla riproduzione assistita all'ingegneria cellulare e tessutale. L'ampia offerta formativa che prevede l'insegnamento di moltissime discipline diverse tra loro, come la genetica, la proteomica e la bioinformatica, in più il risvolto pratico, infatti esploriamo le applicazioni di tali discipline e trascorriamo un gran numero di ore in laboratorio. L'idea di poter sfruttare la giornata per continuare a migliorare me stesso e aiutare gli altri. Determinato, infatti amo pormi degli obiettivi sfidanti ed ho il massimo per raggiungerli. Mi piacerebbe diventare genetista e fare ricerca, in particolar modo vorrei dedicarmi allo studio dei meccanismi molecolari alla base delle malattie rare per poter identificare in futuro nuovi approcci diagnostici e terapeutici. Grazie!